e ancora in compagnia dell'assessore alla cultura e allo spettacolo della regione Liguria. Assessore, che Sanremo sarà questa settantesima edizione? Che Sanremo sarà sul palco? Lo vedremo. Sarà sicuramente un Sanremo che come tutti gli anni sarà un po' lo specchio del palese con tutte le novità che ci saranno, i dibattiti che ci saranno, i personaggi che saprò portare. Un bel po' di anticipazioni ci sono state per quello che riguarda regione Liguria. Sarà un Sanremo in cui regione ci sarà. Abbiamo già dato delle anticipazioni di contenuto di quello che sarà il nostro spot. Ovviamente non di immagini. La prima sarà questa sera. Sarà una presenza di regione Liguria di promozione perché ci crediamo. Crediamo che sia una vetrina non solo perché Sanremo è qui nella nostra regione ma perché diventa un veicolo importante per mostrare la bellezza della Liguria nelle sue eccellenze. E quest'anno abbiamo pensato che non c'è meglio di un festival della musica per promuovere l'eccellenza della musica che è il nostro teatro. E quindi si vedrà e si sentirà il teatro Carlo Felice, diventerà l'Escamotage per promuovere con le immagini tutta la nostra terra. Di più non posso dirvi ma sarà il nostro teatro che farà ripercorrere il nostro paesaggio, la nostra bellezza e sarà davvero l'eccellenza ritrovata e sarà una sinfonia di emozioni e di note. E poi ci sarà regione Liguria presente al Casa Sanremo. C'è Casa Liguria, c'è lo stand, ci saranno le serate, la promozione, gli eventi. Quindi faremo riconoscimento alla carriera, alla ragazzina che ha vinto lo zecchino d'oro, così come a coloro che hanno cantato il dialetto per tanti anni come Massimo Morini che è stato anche il direttore di orchestra qui nel suo trentesimo anno. Insomma ci saranno tanti momenti, la promozione dei nostri prodotti sarà una regione Liguria presente, pronta a promuoversi. Insomma sono già qui al primo giorno con diversi appuntamenti e ci saremo presenti tutti gli assessori, il nostro Presidente ci sarà. Insomma è chiaramente un appuntamento in cui non possiamo mancare a tutti i livelli.